Un saluto a tutti da Capitano Antenna. Oggi risponderemo in maniera molto esemplificata ad una domanda che ci pongono molti clienti del nostro sito web, ossia qual è la differenza tra un partitore ed un derivatore. Ecco qua, abbiamo un partitore ed un derivatore, in questo caso sembrano uguali, ma la differenza è sostanziale. In termini molto poveri, il partitore mi serve a dividere il segnale, mentre con il derivatore vado a prelevare del segnale. Adesso farò vedere degli schemi molto esemplificati e farò capire la differenza tra l'uno e l'altro dispositivo. Allora, mostriamo graficamente, con un semplice disegnino, come funziona un partitore. Nei nostri esempi partiremo da un'assunzione assurda, cioè faremo finta che il cavo non inserisca attenuazione, quindi faremo finta che l'unico dispositivo, gli unici dispositivi che inseriscono attenuazione sono il partitore o il derivatore. Il partitore, vediamo come funziona. In questo caso abbiamo schematizzato un dispositivo a tre vie. Abbiamo un cavo che proviene dall'antenna o dall'amplificatore che entra appunto all'ingresso in del partitore e divide il segnale in tre vie. Il partitore, che cosa fa? Inserisce un'attenuazione che in genere è riportata nelle schede tecniche di tali dispositivi. In questo caso assumiamo che l'attenuazione sia pari a 7 dB. Ammettiamo di avere un segnale in ingresso pari a 80 dB. Visto che il nostro dispositivo introduce su ogni uscita un'attenuazione pari a 7 dB, avremo sulle tre uscite un segnale in uscita pari a 73 dB. Vediamo adesso in breve come funziona un derivatore. La forma è simile a quella del partitore ma la sostanza cambia. Abbiamo preso come esempio, e lo abbiamo schematizzato con un disegnino, un derivatore passante a due vie. Abbiamo sempre le nostre tre uscite ma che cosa succede rispetto al partitore? Succede che l'uscita vera e propria, che chiameremo out, la cosiddetta passante, è caratterizzata da una perdita minima. Abbiamo segnato in questo caso meno 2 dB. Mentre le cosiddette derivate, le uscite derivate, che chiameremo in maniera esemplificata TAP, sono caratterizzate da una perdita controllata, in questo caso di 9 dB. La stessa famiglia di derivatori può essere formata da più modelli che si differenziano per la perdita controllata. Quindi avremo lo stesso derivatore a due vie, in più versioni meno 9 dB, meno 12 dB e così via. Assumiamo come sempre di avere un segnale in ingresso pari ad 80. È chiaro che sulla passante avremo un segnale in uscita attenuato di solo 2 dB. Ricordo che stiamo facendo un'assunzione per assurdo, un'esemplificazione, ossia stiamo immaginando che il cavo non inserisca perdite. Quindi per cui l'attenuazione in uscita sarà solamente l'attenuazione introdotta dal derivatore, ossia 2 dB sull'uscita, sulla passante, 9 dB invece sulle derivate. Per cui avremo un'uscita caratterizzata da 78 dB di potenza, le due derivate da 71 dB di potenza. Vedremo adesso un caso pratico in cui mostreremo un classico utilizzo del derivatore. Prendiamo l'esempio di una villetta su due livelli dove si devono collegare cinque punti televisivi, due punti televisivi che sono situati al piano superiore, tre punti televisivi che sono situati al piano terra. Supponiamo di dover inserire due dispositivi di ripartizione. Il dubbio è cosa inseriremo? Due partitori oppure associeremo un partitore ed un derivatore? Vediamo con un semplice esempio numerico cosa succederebbe se inserissimo due partitori. Sono gli stessi partitori che abbiamo visto prima. Abbiamo un segnale in ingresso che assumiamo sia pari come sempre a 80. Il cavo entra proveniente dall'antenna o dall'amplificatore, incontra il primo dispositivo, il primo partitore e guardate che cosa succede. Avremo due uscite dirette verso due televisori che stanno al piano superiore che sono caratterizzate da una potenza di uscita pari a 73 dB. La terza uscita non va collegata direttamente ad un televisore presente nella casa ma è diretto verso il secondo partitore. Che cosa succede? Succede che la potenza d'ingresso al secondo partitore sarà pari a 73 dB con una potenza in uscita sulle tre uscite pari a 66 dB per uscita. Il risultato qual è? È una differenza di segnale in termini di dB tra le prese che sono poste al piano inferiore e le prese che sono poste al piano superiore. Allora vediamo cosa succederebbe se in cima alla nostra dorsale di distribuzione andiamo ad inserire il derivatore che abbiamo visto prima ed in coda mettiamo il partitore. Ammettiamo come sempre che il segnale in ingresso sia pari ad 80 dB. All'uscita del derivatore avremo le due derivate con un segnale in uscita pari a 71 dB che vanno a servire i primi due televisori, quelli del piano superiore. Avremo invece sull'uscita passante, sulla passante, un segnale in uscita pari a 78 dB quindi con un'attenuazione di solo 2 dB. Andiamo a vedere che cosa succede sotto dove abbiamo posto il nostro partitore. Il segnale in ingresso che è quello proveniente dalla passante del derivatore visto prima è pari a 78 dB. Il partitore come abbiamo visto prima introduce una perdita uguale su tutte e tre le uscite per cui avremo un segnale in ingresso su tutti e tre i televisori che andranno a servire tutti e tre i televisori pari a 71 dB. Naturalmente questo è solo un esempio numerico in cui abbiamo ipotizzato anche delle assurdità ossia che il cavo non inserisce attenuazione e che i soli dispositivi che inseriscono attenuazione sono il partitore del derivatore. Nella realtà non è così chiaramente ma era solo un modo per dimostrare che se sapientemente utilizzati derivatori e partitori possono far sì che tutte le prese televisive nell'appartamento siano bilanciate in termini di segnale. È chiaro che il segnale non potrà essere uguale al 100% su tutte le prese nel senso che è possibile avere in termini di dB delle piccole differenze ma una cosa è avere delle piccole differenze in termini di potenza una cosa è avere delle prese molto avvantaggiate rispetto ad altre. Un saluto da Capitano Antenna e ricordatevi di visitare il nostro sito www.capitanoantenna.it Grazie a tutti.